Al termine dei lavori di messa in sicurezza dei pioppi neri ammalorati presso il campo scuola di Cremona, Legambiente torna a farsi sentire per invitare l'amministrazione comunale a promuovere una vera e propria rivoluzione culturale per quanto riguarda il verde. L'associazione, invitata nella ricognizione dello stato di salute degli alberi, molti dei quali giudicati a rischio schianto dal personale delle serre comunali, ora chiede che il suo coinvolgimento non sia solo conoscitivo, ma crei una sinergia che si traduca in azione politica in grado di trasformare il verde urbano da arredo a priorità per la città. Noi come associazione abbiamo apprezzato molto questa nuova svolta dell'assessore Alessia Manfredini nel coinvolgimento diretto e preventivo delle associazioni ambientaliste. Purtroppo per molti anni il campo scuola è rimasto abbandonato come tantissimo verde urbano nella città di Cremona. La constatazione è stata quella insieme a un tecnico esperto delle serre comunali, quello di vedere effettivamente questi alberi che non sono vecchissimi, perché si tratta di pioppi che hanno dai 40 ai 60 anni, la media è dai 100 ai 140, ricoperti di edera e si sa che l'edera è estremamente invasiva, ma non solo la base del tronco, ma anche la parte apicale. Quindi questo che cosa vuol dire? Ormai si devono abbattere, così dice il tecnico delle serre comunali, però se negli anni addietro fosse stata fatta manutenzione probabilmente ne avremmo potuti salvare qualcuno in più. Che cosa si può fare? Il verde urbano non è solo una questione di arredo urbano, il verde urbano, l'albero, ogni singolo albero è un polmone, quindi maggiore cura ci prendiamo degli alberi e maggiore è la cura che possiamo prendersi come singole persone. Dei 43 pioppi esaminati, 14 sono stati classificati di classe D, cioè a rischio schianto, per gli altri è stata disposta la manutenzione. Il taglio degli alberi non può che ricordarci la battaglia che solo l'anno scorso 13 associazioni cittadine condussero contro il progetto presentate dalla cooperativa Coprat di Mantova per la copertura di una tribuna. Il progetto prevedeva il taglio di 20 tigli del campo scuola, taglio che forse ora è avvenuto per altre ragioni.